Da oggi il deposito alviminale dei simboli per le elezioni politiche del 25 settembre, primo step della campagna elettorale per i partiti che avranno tempo fino a domenica 14 alle 16. Il contrassegno di lista deve essere consegnato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea. È vietato presentare simboli con soggetti religiosi o con riferimenti a ideologie di stampo fascista o nazista. Il passo successivo sarà il deposito delle liste che potrà avvenire tra le 8 del 20 agosto e le 20 del 21 agosto presso le cancellerie delle corti d'appello. Grazie